Ciao a tutti ragazzi io sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi vi voglio parlare del negozio di mia moglie Electra 3D Print & Paint Perché ci sono diverse cose da dire e soprattutto perché ha rifatto da zero la pagina su Facebook Pagina su Facebook che va a sostituire quella precedente e di cui trovate il link in descrizione qua sotto al video In questo e in tutti i video precedenti e che verranno Ve ne parlo a breve dopo la sigla Il negozio di mia moglie che trovate su Facebook e che nel frattempo vedete a video Electra 3D Print & Paint è il suo negozio, la sua pagina Questa volta la pagina a differenza della precedente, sempre parlando di Facebook È stata fatta molto più organizzata e infatti tutti quanti i suoi progetti li potete trovare divisi per cartella Quindi magari c'è la cartella che riguarda le pitture, le action figure, warhammer e quant'altro Perché vi ricordo che mia moglie come servizio appunto lavorativo ha il servizio di stampa Che ora poi si apre una grande, piccola grande parentesi Il servizio di stampa ma anche il servizio di pittura Infatti è successo in passato che alcuni clienti hanno comprato dei giochi Come ad esempio Zombicide Greenord Ce l'hanno mandata a casa per farcelo dipingere Quindi comunque è un servizio di pittura che fa anche mia moglie Poi trovate tutti i prezzi o direttamente sulla pagina o mandate un messaggio privato o la contattate E gli ha dipinto tutto quanto il gioco e gliel'ha rimandato Quindi è anche un servizio che mia moglie fa, quello appunto di unicamente pittura Per quanto riguarda la stampa Quindi la stampa di qualsiasi cosa Dallo scenario per Wargame Warhammer Star Wars Legion Oppure i giochi della Warlord Games come Bolt Action e quant'altro Ha tre tipi di stampe differenti per tre cose differenti C'è la stampa normale Intanto se vedete muoversi la gatta è normale, si prende sempre il primo piano Che sarebbe la stampa quella normale Si fissa il prezzo, voglio stampare un pezzo per un cosplay o quant'altro Si fa la stampa, si fa la stima, si fa il preventivo E la stampa normale comprende il lavoro di progettazione sul computer La rimozione dei supporti una volta finita la stampa E la pulizia del pezzo Sempre che non ci sia ad andare a correggere qualche errore con il green staff E quindi tutto il lavoro di manutenzione che viene dopo E questo ha un costo Poi, e lo mettiamo, mettiamolo di intermezzo Livello superiore, pittura del pezzo che sia ad esempio un action figure da 10-15 cm Come un pezzo per cosplay e quant'altro E poi c'è il servizio, quello che costa meno di tutti Che è, noi l'abbiamo chiamato, la stampa a chilometro zero Vuol dire che mia moglie stampa il pezzo Appena la stampante finisce di stamparlo Lo stacca dal piatto Non ci leva nemmeno i supporti Lo chiude, lo imballa e ve lo manda Quindi, sono tre tipi di spese differenti Che ora non posso quantificare in un video Perché dipende anche dal tipo di lavoro Però il primo intermedio è la classica stampa Con pulizia del pezzo e tutto e mandato Però lo dipingete voi Stampa del pezzo con pittura Oppure stampa del pezzo a chilometro zero Staccato dal piatto e mandato Tutti e tre hanno un costo Se qualcuno vuole spendere il meno possibile Il lavoro di pulizia me lo faccio io Se c'è qualche buco, magari la materia verde Ce la vado a mettere io e me lo dipingo da solo Sceglie il livello principale Il livello 1 appunto della stampa Quella a chilometro zero E risparmia tanto Quindi tutto il lavoro di mano d'opera Lo farete voi Se volete fare delle stampe Not safe for watch Si fanno tranquillamente C'è già ricapitato Ad esempio mia moglie ha stampato delle futanari O se volete stampare Dell'action figure O qualsiasi cosa a sfondo erotico Non è un problema Non vi vergognate È una stampa È un lavoro Quindi anche per quelle cose a sfondo erotico Tranquillamente Contattatela Per fare delle stampe apposite Non è assolutamente Un problema Basta Che ovviamente Non sia roba Roba Troppo spinta Becera Ovviamente Non c'è nemmeno bisogno di dirlo Pedopornografica Quindi queste cose Assolutamente no Ma se è una futanaria O qualcosa Comunque anche a sfondo erotico E sessuale Non è assolutamente Un problema Roba coperta da copyright Non prendiamo assolutamente L'ordinazione Tipo roba della games workshop Vi faccio un esempio Però kit di conversione Si Quindi se avete bisogno Non stamperemo mai La miniatura Di un primaris Degli ultramarine Ma potremo stampare Dei pezzi Per dei kit Conversione Che appunto Potete usare Poi sulle vostre miniature Teste diverse Braccia diverse Armi Jetpack Insomma E quant'altro E per quanto riguarda invece Il materiale per cosplay Quello contattateci Tranquillamente L'unica cosa Apriamo una piccola parentesi In questo discorso Mia moglie Non è una modellatrice 3D Per quanto sta iniziando Un po' a fare I primi scenari Le prime case Per bolt action Però non è una modellatrice 3D Quindi se volete stampata Un'armatura Medievale Per fare un cosplay Si può fare tranquillamente Ma dovete già avere voi Gli STL Trovati gratis Sui siti Fatti fare da qualcuno Quindi che avete pagato Per farvelo fare Oppure a pagamento Trovato su qualche sito Quindi si può stampare Tutto Quello che vi viene in mente Però ovviamente Il progetto STL Il progetto del modello 3D Che poi andrà in stampa Quello lo dovete avere Dobbiamo trovarlo Oppure Magari siamo noi Che lo cerchiamo per voi Assolutamente Quando si va a fare Una stampa È buona usanza Anche per tutto il lavoro Che c'è Pagare anticipatamente Se uno non vuol pagare Anticipatamente Perché magari Preferisce farlo Non c'è problema Però si Almeno la metà All'inizio Per coprire le spese Bobine Magari Bombolette Spray Per dipingere e tutto E l'altra metà A fine Anche per poi Evitare Di fare una stampa Che richiede 20 giorni E poi la persona Si tira indietro Quindi comunque Perlomeno Se non volete pagare Tutto subito Almeno la metà Del costo Del lavoro E tutto insomma Del preventivo Quello va saldato subito Pagamente accettati O dal vivo in contanti Si può fare tranquillamente O bonifico bancario O se non ve la sentite E volete andare In tutta tranquillità A Paypal Pagate con Paypal Come merce Non qui invia denaro Ad un amico Come merce Quindi tutte Le tranquillità del mondo Nel caso poi Ci dovessero essere In comprensioni Che non ci saranno mai Da parte nostra Con Paypal Si va tranquilli Costi di spedizione A parte Per spese Superiore 79 euro Come dal nostro Negozio sponsor Gioco Librelia Semola Gratuite Quindi se spendete Più di 79 euro Di ordine Spese postali Gratuite Già comprese Nell'offerta Per il primo ordine Fatto dal nuovo cliente 10% di sconto Assolutamente Subito E su ordini Grandi Ci saranno sempre Dei sconti particolari Quindi uno che fa Un ordine di Magari oggetti Per pimpare Il suo board game Preferito Roba per cosplay Action figure E quant'altro Va a fare una spesa Bella grande Ovviamente ci sarà Sempre anche lì Uno sconto Su acquisti multipli Quindi qualsiasi cosa Contattate mia moglie Sulla sua pagina Facebook Electra 3D Print and Paint Trovate il link In descrizione In tutti i video Che carichiamo Contattatela Anche solo per una consulenza O per un preventivo Perché almeno Vi mettete subito D'accordo Sulla cifra Di quanto può venire A costare un progetto Del genere E siamo a vostra Totale disposizione Stessa cosa Per la pittura Su commissione Non volete stampare niente Come detto all'inizio del video La contattate Io ho Ghirliman De Warhammer 40.000 Te lo mando Me lo dipingi Non è assolutamente un problema Ho un esercito Di 50 Fanti della guardia imperiale Più due carri Le marrasse Me le dipingi Tutto Pittura E stampa 3D O volete fare Un tavolo da gioco Per un torneo Stampando Che ne so Tutto quanto Un'ambientazione Per il gioco Magari Il wargame Di Lord of the Rings Si può fare Qualsiasi cosa Vi venga in mente Per il nostro cliente Abbiamo stampato Tutto il castello Ravenloft Per giocarci appunto Con le miniature Dungeons and Dragons Quindi si può fare Qualunque cosa Vi venga in mente Contattate Mia moglie Ciao ragazzi Alla prossima